Buongiorno amici e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è lunedì 4 settembre 2023 e come al solito iniziamo la nostra lettura dei giornali a partire dall'almanacco del giorno. E oggi si festeggia Santa Rosalia. Santa Rosalia non ha bisogno di presentazioni, anche se è una santa privilegiata dai siciliani, comunque è nota in tutta Italia. È la Santa di Palermo, città dove nacque nel 1130. Fece voto di vergenità considerando questa condizione come la migliore per avvicinarsi a Dio. Si ritirò in una grotta nel monte Pellegrino, oggetto ancora oggi di pellegrinaggi. A lei invocarono i palermitani la fine della peste nel 1625 e dopo che le sue reliquie furono portate in processione, il morbo sparì. Quindi una santa che fece anche dei miracoli. Questa è Santa Rosalia. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. C'è un lieve cambiamento rispetto ai cieli sereni dei giorni scorsi, ma cambia poco comunque. E lo vediamo qui nella grafica. C'è una nuvolosità diffusa oggi e spesso compatta fino dal prim pomeriggio, ma con una bassa probabilità di fenomeni temporaleschi. Le massime non raggiungeranno i 28 gradi, insomma, si attesteranno su questa temperatura. La minima invece ha toccato i 21 gradi. Il mare è molto mosso, il vento spira abbastanza teso, con una tensione media da est e nord-est sulle coste e da nord-est nell'introterra. Questa è un po' la situazione del tempo. Ed ora passiamo alla lettura dei giornali, a partire dal resto del Carlino, sulla prima pagina dedicata a tutta la Regione. E vediamo la sintesi delle notizie. Oggi il Carlino, come tutti i lunedì, ha una edizione lievemente ridimensionata. Vediamo dunque la pagina di Pesaro, dove si apre con Urbino, dove si è conclusa la festa, una delle feste più belle, più storiche della città ducale, che è quella degli Aquiloni. Aquilone che gara, Urbino si tinge di giallo, sì, perché giallo, è il colore della contrada Hong Kong, che per la quarta volta ha vinto il trofeo. Bis di premi anche per Mazzaferro, che si conferma uno specialist. Questo è quanto riguarda la fotonotizia di apertura. Poi abbiamo due notizie, una riguarda la fiera di San Nicola, che inizierà il 9 settembre, sono in arrivo, sono attesi 550 ambulanti. E poi la storia, una storia che emerge così da una lettera che era dimenticata, che forse non si considerava importante. In realtà è una fonte primaria per quanto avvenuto durante l'ultima guerra mondiale. Vediamo la pagina di Ancona con una bella fotografia della festa del mare, conclusa con lo spettacolo di fuochi artificiali, oltre 20.000 visitatori in due giorni. Questo è il record delle presenze, segnate da questa festa molto sentita. Quando si fa la festa del mare, un po' tutte le località, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, sono città che hanno una vocazione marinaresca e quindi quando si celebra il mare, insomma, c'è una grande afflusso di gente. Processione, protesta, provi vacchi, ma non è contro gli stranieri al porto, una processione effettuata nel contesto della festa del mare. E poi un caso curioso accaduto a Filottrano. Un italiano è migrato all'estero perché è ricercato dalla polizia, rientra nelle marche per il matrimonio di un parente e viene arrestato durante la cerimonia. Pensate che Trambusto ha creato questa operazione. Ad Ascoli in tribunale si rievoca un'aggressione con calci e pugni per 50 euro. è stato condannato un rumeno. Ad Altidona il centro vacanze Mirage festeggia 40 anni di attività. Invece vediamo Adolfida muore tre giorni dopo l'incidente in bicicletta. Donati gli organi. E ora vediamo gli scenari del mondo del lavoro. Diminuiscono i giovani. L'allarme tra le imprese. Se il ricambio è più difficile tra coloro che vanno in pensione e quelli che dovrebbero essere assunti. Vediamo anche la pagina di Macerata. Schianto in moto a San Severino Marche perde la vita un 33enne padre di un bambino. A Civitanova il cantiere infinito blocca i giochi sul lungomare. Mentre per quanto riguarda il turismo vengono presentati i percorsi tra arte e natura per i disabili. Certo anche loro hanno tutto il diritto di avere gli stessi servizi dei normadotati per quanto riguarda le vacanze. Ed ora apriamo il giornale e diamo un'occhiata a quella lettera che è stata ritrovata dopo tanti tanti anni che getta nuova luce sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Aldo, l'eroe sconosciuto. Aldo è il nome di guerra di un partigiano. Salvò un paese intero e come ricompensa ebbe un sacco di farina. Riuscì a tagliare la miccia con cui i tedeschi volevano far esplodere il vecchio castello di Sant'Angelo in Lizzola con tutti gli abitanti chiusi dentro. Ebbene, questo fatto era pressoché sconosciuto, era dimenticato. E' stato ritrovato perché immortalato da una lettera scritta da Maria Luisa Fornaci, casalinga pesarese, madre di quattro figli, morta nel 2011 a 88 anni di età. L'aveva ricordato in una lettera che poi aveva riposto in un sacchetto. Ebbene, questa lettera è stata ritrovata per caso dal fratello Cesare. Ad oltre dieci anni dalla morte della sorella, Cesare ha capito che quelle righe dovevano essere rese note e le ha consegnato alla redazione del resto del Carlino. Mia sorella, ha detto, sarebbe stata contenta ebbene far sapere tutto della guerra. Ebbene, che cosa dice questa lettera? Dice che durante la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui c'era il passaggio del fronte a Sant'Angelo in Lizzola, i tedeschi posero delle mine lungo le mura del castello di Sant'Angelo e dentro il castello, senza possibilità di uscire, erano tutte le famiglie del paese e quelle mine dovevano essere esplose. Ebbene, un certo Aldo, tra virgolette, ma in realtà si chiamava Benvenuto Temporin, ed era di Monselice, che si era poi trasferito a Pesaro, aveva 29 anni, rischiò la vita per difenderne centinaia. Ebbene, tagliò la miccia che doveva fare esplodere, appunto, tutte quelle mine. Ebbene, per questo atto di eroismo venne ripagato con un sacchetto di farina. Allora, forse un sacchetto di farina valeva tant'oro quanto pesava, dato la miseria che c'era in quel momento drammatico del passaggio del fronte, ma ovviamente, certo, era un atto simbolico. A lui tutta la riconoscenza del paese. Ed ora parliamo della Fiera di San Nicola, più di 550 ambulanti, 4 chilometri di bancarelle, mille novità per i bimbi. La novità è quella di Piazzale d'Annunzio, che è stato ristrutturato recentemente, dove sarà dato spazio al cibo e a tanti spettacoli. Qui, infatti, si alterneranno serate di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età, con le cabaret croccante, il baluschi, il folk rock italiano. E inoltre, domenica, dalle 10 alle 20.45, una band proporrà un repertorio che si caratterizza con le armonie della fisarmonica. Quindi un repertorio molto, molto popolare. Dicevamo che la Fiera di San Nicola inizierà sabato 9 e finirà martedì 12 settembre. In origine, in realtà, i prodotti caratteristici di questa fiera erano l'aglio e la cipolla, come appunto per la Fiera di San Bartolomeo di Pesaro. Ma poi si sono sovrapposti tantissimi prodotti, c'è di che sbizzarrirsi nel girare nel circuito della fiera e ci sarà la possibilità di acquistare a buon prezzo tutte le cose che servono, magari per rinnovare il guardaroba oppure comprare casalinghi. Insomma, c'è tante, tante cose da comprare, da vedere. In questo articolo ci sono anche delle notizie per quanto riguarda come raggiungere la fiera, il parcheggio e un po' qualche notizia appunto per l'uso, per l'uso nel senso di raggiungere i luoghi delle bancarelle. Altre due notizie a fondopagina che riguardano Pesaro. Oggi, a 30 anni dalla morte, ci sarà un primo appuntamento del ciclo che ricorderà Don Gaudiano. Il 10 ottobre prossimo ricorre infatti il trentesimo anniversario della morte di questo angelo della solidarietà. La comunità di Via del Seminario e il CEIS di Pesaro, con la collaborazione dell'Associazione Amici di Don Gaudiano, della Fondazione Don Gaudiano, hanno pensato tutta ad una serie di iniziative preparatorie per ricordare questo anniversario. E si comincia stasera con il primo di tre lunedì. L'intento è quello di rinnovare il nostro impegno, dicono gli organizzatori, e nel continuare a concretizzare il suo messaggio. Il primo appuntamento alle 21.15 di stasera parte dalla famiglia, passa per l'università e per il sacerdozio. Dunque, temi molto cari a Don Gaudiano. Un'altra memoria, si ricorda Arnaldo Forlani, oggi cerimonia in Consiglio Comunale alle 16.30 a Pesaro. Verrà rinviata invece nella stessa seduta la votazione per la nomina consigliere di Nicoletta Rossi, che subentra allo scomparso consigliere Roberto Biagiotti. Questo avvicendamento dunque viene rinviato. Vediamo anche l'articolo che riguarda la festa degli Aquiloni di Urbino. Vediamo qui alcuni esempi di Aquiloni veramente costruiti con fantasia, ma anche con una tecnica insuperabile. Vediamo qui una finestra di vetri colorati, vetri tra virgolette, che volteggia nel cielo. Qui un altro Aquilone, questo sembra una macchina volante. Ebbene, la festa dell'Aquilone si conclude con il poker di Hong Kong. Hong Kong che aveva già vinto nel 1969, nel 2015 e nel 2007. Ebbene, erano mai tempi passati, ma oggi ha rinnovato questo successo nella 68esima festa dell'Aquilone. Ebbene, vince la gara, chi fa volteggiare più a lungo il proprio Aquilone. E poi due successi anche per Mazzaferro, che si conferma specialista degli Aquiloni tridimensionali di bellezza, con una riproduzione della DeLorean, l'automacchina del tempo ritorno al futuro. Ve la ricordate? Quella macchina che sparava ad una velocità folle e quindi infrangeva la barriera del tempo. E a disegnare sul prato 200 bambini e anche per loro la festa di Urbino ha ottenuto un grande coinvolgimento e un grande successo. Passiamo ad Ancona per darvi dare un'occhiata a questa serie fotografica della Festa del Mare con lo spettacolo pirotecnico Fuochi d'artificio, un grande show, i migliaia invadono il porto. E qui vediamo anche il sindaco Daniele Silvetti che premia Franco Rubini che insieme al figlio Edoardo ha vinto il paglio delle Batane. In basso, barche di Ancona, Porto Novo, Sirolo e Numana alla partenza e sono le Batane appunto che si sfidano a forza di Remi. E poi la processione di cui abbiamo parlato nella sintesi della prima pagina. Processione con protesta, il no ai bivacchi nel mirino, ordinanza per il decoro, l'accoglienza non c'entra. Ed è una processione sì per protesta ma anche per evidenziare un'esigenza molto, molto sentita in Ancona. Una trentina di manifestanti in porto prima della partenza delle barche dicono che vogliono insomma una dicono che vogliono così presentare una protesta per quanto riguarda quello che sta accadendo appunto nella strategia del porto. Una trentina di manifestanti prima della partenza delle barche il sindaco Silvetti replica non è una rivolta agli stranieri serve mantenere le regole. E allora abbiamo una ambasciata di diritti che devono essere rispettati. E poi abbiamo anche un articolo che riguarda l'apertura dell'anfiteatro romano che forse pochi hanno visto in Ancona. Ancona è una città che si fa risalire per quanto riguarda le proprie origini alla madrepatria greca infatti si chiama la città Dorica ma ha avuto anche una dominazione romana non trascurabile e quindi l'anfiteatro romano è una delle testimonianze di questo periodo e quando si riapre dato che si riapre poche volte la sua apertura ottiene un successo straordinario. Si lavora per uno spettacolo per il prossimo 15 settembre. Riecco l'anfiteatro romano l'evento conquista i turisti. Arrestato al matrimonio i militari entrano alla festa e bloccano un ricercato. Si tratta di un 58enne che è stato condannato per violenza in ambito familiare. Ebbene era fuggito era andato in Germania per sottrarsi alla cattura e poi così quando ha visto che le acque si erano calmate è tornato in Italia per partecipare ad un matrimonio di un parente ma è stato fatale il suo rientro perché i carabinieri lo hanno individuato e lo hanno arrestato proprio nel mezzo della cerimonia. Pensate lo stupore dei presenti una scena che ha lasciato in credo gli sposi e gli altri invitati che hanno assistito in diretta alla operazione portata a termine dai carabinieri. E qua purtroppo un dramma schianto in moto contro il guardrei il muore padre di un bimbo di tre anni era un ragazzo leale dal cuore grande l'incidente è accaduto lungo la Valnerina al confine con l'Umbria la vittima è Moreno Castelletti 33enne di San Severino Marche era un grande appassionato di sport e motori e lavorava nel settore della sanificazione oggi l'ultimo saluto e qui vediamo la fotografia della vittima di questo incidente ed ora passiamo allo sport vediamo allo sport sulla pagina del resto delle Carlino vediamo subito come il Fano Calcio ha vinto il confronto con il Senigallia Senigallia è poco vigor cioè poco vigorosa dice il titolo del Carlino passa Salalma Fano Badam punisce Rosso Blu che non mordano un tiro dell'attaccante Granata è entrato pochi minuti prima decide il match per Clementi arriva allo schiaffo che aveva previsto insomma la Vigo non se lo aspettava questa sconfitta in casa mentre la Vispesaro passa da un gol annullato a quello subito è così veramente dura concludere una partita ma nella nuova Visse c'è del buono che avanza quindi i critici hanno così individuato nonostante questa sconfitta del buono all'interno della squadra ed ora passiamo al Corriere Adriatico vediamo l'articolo di apertura che parla di turismo in un modo particolare è finita l'alta stagione ora c'è un'esigenza quello di prolungare la stagione turistica nonostante che ormai l'alta stagione cioè il mese di agosto e quello di luglio con alti e bassi dobbiamo dire è terminata l'imperativo è destagionalizzare questo è l'impegno che si è assunto l'assessore al turismo Etienne Lucarelli che parte da un consuntivo importante per quanto riguarda il successo ottenuto dalla Visit Card una iniziativa che si è tradotta concretamente con delle agevolazioni nei confronti dei turisti i quali hanno ottenuto risparmi economici perché possono visitare i luoghi senza pagare biglietti e possono anche usufruire di un trasporto pubblico dall'hotel ai luoghi da visitare gratuito quindi addirittura personalizzato basta chiamare un numero telefonico e arriva una macchina e la macchina conduce il turista nei luoghi da visitare pensate che bel servizio destagionalizzare la sfida all'estero non ci conoscono questo è l'imperativo adesso bisogna farci conoscere più all'estero perché quest'anno sono mancati turisti stranieri rispetto agli anni scorsi quindi occorre più promozione mirata diciamo meglio occorre vedere quali sono le località da cui possono provenire i turisti e lì insistere per farci conoscere Fano ha una grande possibilità terminata la stagione balneare può contare su altre attrattive quella città d'arte e cultura la città romana la città dell'ambiente la città dell'enogastronomia e sono queste delle peculiarità molto apprezzate dai turisti Museo non attrattivo deve essere aggiornato il titolo riguarda il consuntivo di un sondaggio che l'assessorato alla cultura ha compiuto nei confronti degli spettatori che hanno assistito alla presentazione del progetto del nuovo museo è stato distribuito un questionario che proponeva diverse domande ed è emerso che i cittadini chiedono che il museo venga rinnovato perché così com'è è desueto insomma non è che ha grandi attrattive del resto non è nemmeno molto movimentato e quindi deve essere una fucina di mostre di incontri di laboratori di pubblicazioni insomma deve essere un museo vivo cosa che non è attualmente ma questo era già un obiettivo che si era proposto il nuovo progetto del museo per cambiare un po' la situazione e poi qua invece abbiamo nella seconda pagina di apertura una presa di posizione del segretario della Lega Alessandro Brandoni in merito a quanto dichiarato dall'assessore alla cultura Cora Fattori per la sicurezza della città Cora Fattori non tanto come assessore ma come esponente di Europa aveva così insomma detto le sue per quanto riguarda l'atto di vandalismo che era stato compiuto ai danni di un distributore di snack al pincio di Fano il vero problema dice Brandoni è la sicurezza bivacca chi non vuole integrarsi sì si può fare di tutto per integrare queste persone che vengono da fuori devono inserirsi nella nostra società ma se queste proprio non vogliono è inutile sforzarsi occorre prendere altri provvedimenti uffici comunali sguarniti Rossi assume il personale e da qui passiamo da Fano a Cartoceto Rossi infatti è il sindaco di Cartoceto il comitato di Cartoceto segnala la grave carenza di dirigenti occorre più personale nel comune per risveltire le pratiche e per far sì insomma che l'amministrazione comunale riacquisti la propria efficienza vediamo anche l'articolo che riguarda San Costanzo c'è un problema in via Roma che va sistemata e sempre piena di buchi e lo vediamo documentato qui in questa fotografia vedete queste macchie scure sono tutte buche avvallamenti che rimane che fanno sì che la strada rimanga difficile a percorrersi da parte dei pedoni e dalle biciclette i residenti mobilitati da oltre un anno cercano di così di incentivare il problema di una nuova asfaltatura ancora però non si è vista nessuna soluzione sabato avverrà l'inaugurazione della scuola media fermi nella sede a Mondolfo eseguiti lavori di adeguamento sismico e quindi una scuola più sicura per quanto riguarda Senigallia vediamo che l'apertura sul Corriere è dedicata all'arresto di quel ricercato che era andato in Germania e poi era tornato in Italia per partecipare ad un party di nozze banchetto trappola blitz e arresto ma di questo abbiamo parlato e abbiamo parlato anche dello schianto in moto che ha causato la morte di un giovane di San Severino era papà di un bambino di tre anni terribile questa cosa la vittima è Moreno Castelletti di San Severino ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail l'incidente è avvenuto nel confine tra Marche e Umbria vediamo ora la pagina di Pesaro dedicata in modo particolare agli asili nido e alle materne il comune assume più posti per i bimbi un servizio molto molto prezioso per le famiglie l'assessora Murgia e il sindaco Ricci hanno incontrato il personale e si concretizzeranno le migliorie che stiamo apportando nei servizi questa è la promessa del sindaco di Pesaro case e garage nel mirino dei ladri del sabato sera fate attenzione rubate soprattutto bici e danneggiati i portoni di ingresso per scassinarli garage dei condomini aperti per rubare bici e porte delle abitazioni forzate per rubarvi all'interno anche questa volta nell'ultimo weekend sono avvicendati furti rotonda né piccola né pericolosa le auto la tagliano per fare in fretta Belloni replica e promette interventi rafforzando la segnaletica orizzontale tra la statale e via Milano quindi questo è un problema che permane ormai da tempo e deve essere risolto con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno Altegì di Fano TV occhio alla notizia delle ore 20 e 30 e domani per la consueta rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti